Non ci sono solo i malumori per le liste d'attesa ancora troppo lunghe per visite ed esami o le aggressioni contro i sanitari. C'è anche un'altra realtà fatta di gratitudine per le cure e l'attenzione ricevuta da parte di medici e sanitari che si manifesta in donazioni, in denaro o in beni, verso l'azienda sanitaria locale e messa in pratica da tanti piacentini, privati cittadini, aziende, associazioni, ma anche studenti e mondo del volontariato, che nell'ultimo anno e mezzo si è concretizzata in un importo complessivo di 700.000 euro. Nel 2021 i piacentini, tra soldi e strumentazioni, hanno donato all'azienda 422.000 euro. Altri 272.000 sono la dote arrivata nel primo semestre dell'anno in corso. Si va dai 100 euro dell'ex insegnante che ha voluto così manifestare la propria riconoscenza per le cure ricevute, ai 10.000 euro del presidente di una società sportiva e destinati al reparto che lo vide tra i pazienti, senza contare il milione di euro lasciato in eredità nel 2020 da un piacentino per le cure ricevute dalla moglie nel reparto di oncologia e che ha sbriciolato tutti i record. L'ambito pediatrico è quello privilegiato, con numerose donazioni anche in arredi e giocattoli. Oltre alle apparecchiature mediche e sanitarie, ci sono anche una nuova ambulanza per il 118 di Bobbio e un'autovettura per le cure palliative. Gesti che dimostrano la vicinanza della popolazione all'azienda sanitaria, che spesso nascono da un'esperienza diretta o dal desiderio di sostenere un progetto, spiega Giuseppe Arcari, direttore degli affari generali e rapporti istituzionali dell'USL, e che oltre a manifestare stima nell'operato dei sanitari, servono anche da stimolo a migliorare per essere sempre di più all'altezza di quella considerazione ricevuta.